Il diritto di sognare sa rappellizzare i rabolini. Allora, Bea, la protagonista di questo romanzo, è una ragazzina delle medie ed è un'eterna seconda. C'è sempre almeno una persona che fa meglio di lei. Ha un amico, Alex, che è un bambino di colore. Bea decide di fare una ricerca per la scuola su Claudette Colvin. Allora, Claudette è anche lei un'eterna seconda perché ha preceduto Rosa Parks, ma Rosa Parks è diventata famosa e Claudette no. Si tratta di due persone di colore, Claudette una ragazzina, Rosa una donna adulta, che negli anni 50 in America si sono tutte e due rifiutate di lasciare il posto sull'autobus a una persona bianca. Notiamo però che non è che loro si sono sedute nel posto dei bianchi e si sono rifiutate di alzarsi. Erano sedute nel posto dei neri e la persona bianca pretendeva che loro si alzassero lo stesso. E questo, a un certo punto, è diventato intollerabile ed è nato un intero movimento su questo. Allora, è un tema che io conoscevo poco. Grazie a questo libro l'ho conosciuto meglio. Trovo assolutamente giusto che i nostri ragazzi sappiano queste cose perché sono dei passi fondamentali nella storia della tolleranza e questo libro, come tanti libri per ragazzi, dovrebbe finire in tutte le scuole e in tutte le case. Per cui adesso comincerò a prestarlo a persone che hanno dei bambini che vanno alle elementari, nella speranza di riuscire a diffonderlo ancora di più perché Sara è già molto brava in questo. Complimenti.